Ciao ragazzi, io sono Red, sempre con il mio bellissimo orsetto della Napapiri, come siete ormai stati abituati a vedere in queste due settimane, ma tranquilli perché i video che avverranno da mercoledì prossimo saranno estremamente interessanti. Ho preso sull'accento sbagliato e ho deciso di tenerlo. Di cosa parliamo oggi? Di questo fenomenale pillole di magliette natalizie. Settimana natalizia che sta per coronare il fatidico video natalizio che siete ormai stati abituati a vedere ogni anno su questo canale. Perché sì? Ecco quindi che partiamo con la maglietta natalizia del Monopoly Softair. Non è la nostra brandizzata, però è una bella maglietta natalizia. Sigla! Se come me odiate il Natale e avete voglia di mettervi qualcosa che faccia sentire tutti quelli che indossano il maglione della nonna in stile natalizio degli idioti... Sto ovviamente scherzando. Questa maglietta fa al caso vostro. Troviamo il nostro bellissimo Frosty, il pupazzo del Natale, vestito come un commando e con di fianco appunto due soldati che tra l'altro sembrano della guerra del Vietnam, ma vabbè, pronti a fargli da spalle. È incazzato, è arrabbiato, vuole vendetta perché il sole ha ucciso i suoi familiari e l'avrà. Veramente molto carina, sicuramente simpatica. Se avete voglia di andare al cenone di Natale con qualcosa nella manica per far parlare di voi, questo è sicuramente l'oggetto necessario. C'è in tutte le taglie LSEM per forza di cose e anche le XL. Affrettatevi perché purtroppo stanno andando a ruba, non ad aruba, ma letteralmente a ruba e quindi se ci volete mettere le mani sopra dovete sbrigarvi. Pillola è veramente molto corto ma come detto settimana prossima ci divertiremo parecchio. Qui da Red è effettivamente tutto, in descrizione trovate il link per acquistare questo fantastico prodotto e anche il link di Instagram. Io posso solo ringraziarvi, dirvi di prepararvi a mangiare come dei matti e stay angry. Boia che bella maglietta.